Angelina Jolie svela la sua dieta per avere un corpo da star Bellissima e affascinante, Angelina Jolie, fin dagli esordi della sua carriera come attrice, è considerata una delle donne più intriganti del mondo Oltre ad avere un viso angelico, con la pelle perfetta e occhi sfavillanti, l'attrice ha sempre sfoggiato un fisico da top model, slanciato e asciutto A volte alcuni l'hanno accusata di essere troppo magra, ma Angelina ha continuato decisa la sua vita, dimostrando a tutti come i periodi difficili possano essere affrontati e superati nel modo migliore Oggi, a 42 anni, la Jolie appare più bella che mai, merito anche della sua dieta La dieta da star di Angelina Jolie La Jolie, lavorando come attrice, deve essere molto attenta alla sua forma fisica, gli impegni quotidiani e lo stress però mettono a dura prova il fisico di chiunque, per questo la star di Hollywood ha deciso di seguire una dieta che le permetta di mantenere un fisico da star in ogni occasione . Angelina Jolie inizia la sua giornata con una colazione a base di cereali, di cui è un'assidua consumatrice, e fragole, la frutta e la verdura rivestono un ruolo molto importante all'interno della sua dieta La sua giornata è divisa in sei pasti leggeri, perfetti per darle energia senza però gonfiarla o appesantirla, in particolare, quando si trova impegnata sul set, l'attrice tende a consumare piatti a base di carne bianca, come pollo e tacchino, eliminando quasi del tutto le carni rosse Il piatto preferito della star è la caprese, condita solo con un filo di olio extravergine di oliva e foglie di basilico, ma non rinuncia anche ad un buon piatto a base di pesce Banditi invece i cibi spazzatura, ricchi di grassi e zuccheri, e tutte le bibite gassate, l'attrice è molto attenta a rispettare il suo regime alimentare in modo oculato e preciso Anche il consumo di alcol è stato drasticamente ridotto, la star di Hollywood si concede un drink solo durante il weekend, mentre nel resto della settimana beve solo acqua naturale, precisamente 3 litri al giorno Grazie a questa dieta, la Jolie riesce ad avere tutte le energie necessarie per affrontare i suoi numerosi impegni di lavoro e di mamma, senza rinunciare però al gusto e alla bontà di prodotti genuini Bellezza e talento, la combinazione perfetta Angelina Jolie non è solo bella e lo ha dimostrato durante i suoi vent'anni di carriera, sono tantissimi i fan che seguono tutti i progetti dell'attrice e ora regista statunitense, certi di venire sempre soddisfatti al 100% E così è, la Jolie, nonostante i problemi, come la separazione da Brad Pitt, non ha mai rinunciato al suo ruolo di attrice, dando vita a progetti interessanti e sempre all'avanguardia Bellezza e talento, ecco la combinazione vincente che ha permesso alla Jolie di diventare una delle donne più stimate e ammirate di Hollywood a livello internazionale Dopo essersi ripresa dal dolore della fine del suo matrimonio, l'attrice si è dimostrata più forte e determinata che mai, grazie anche all'amore incondizionato dei suoi sei figli che sono la sua più grande fonte d'ispirazione .